Ciao, io sono Vic e spero che questo sia il primo di una serie di video in cui mi piacerebbe parlare di storia dell'arte delle donne. Che cosa vuol dire tutto ciò? Che semplicemente andremo insieme a scoprire le dinamiche per la quale non si parla di donne artiste fino all'era contemporanea e comunque alle difficoltà che numerose creatrici tutt'oggi vivono. E non solo ne cresceremo insieme nel dettaglio alcune di queste. Ma perché non si parla di grandi donne artiste? Bisogna partire dall'idea che le donne hanno sempre creato, da sempre, e hanno sempre prodotto arte. Ma per tutta la storia, fattori sociali e istituzionali hanno impedito che si sviluppasse il loro talento liberamente e che la loro arte fosse conservata adeguatamente. Quali sono questi fattori? Il fatto che la donna sia sempre vista inferiore e subordinata all'uomo, il fatto che la donna sia stata relegata al ruolo di madre e moglie e la negazione dell'accesso alle accademie e quindi ai luoghi di formazione. Di fatto questo ultimo punto è estremamente importante perché fino all'apertura delle donne e alle classi di nudo queste erano sempre condannate, sono sempre state condannate a generi come la natura morta, il paesaggio, generi che non sempre hanno avuto picchi di interesse nel corso della storia dell'arte. E di fatto spesso viene in questo percorso che nel momento in cui le donne hanno accesso a determinati strumenti questi siano spesso già superati. Però c'è da tenere conto di una cosa che non si deve affrontare solo quando si parla di storie d'arte delle donne, ma sempre quando parliamo d'arte e di storia, che non tutto è generato con compartimenti stagni. E si sa benissimo che gli impressionisti comunicassero con i post impressionisti, che erano gruppi misti, cioè del fatto che ci fossero dei dialoghi tra artisti che utilizzassero un determinato stile o che aderessero un determinato movimento con altre cose che esistevano contemporaneamente. Il paesaggio ad esempio non sparisce mai, non è che nel momento in cui arriva il cubismo e gli artisti smettono di fare il paesaggio. Anzi, il cubismo è semplicemente una tendenza di quel momento, ma poi ognuno fa quello che gli pare dentro la storia dell'arte ed è questa una delle cose più affascinanti. E tornando a noi, bisogna tenere in conto che le donne artiste non hanno un'esperienza, un'esperienza collettiva per essere accomunate dallo stesso sesso. No, anzi, bisogna tenere conto che spesso interferiscono nel loro sviluppo e anche in quello che ci rimane nelle loro tracce, i fattori economici. Per esempio, a Sofania Spanguissola veniva da una famiglia benestante per citarne una, o il fatto è la continuità nel lavoro del padre, come Artemisia Gentileschi per fare alcuni esempi, eccetera eccetera. Di conseguenza ogni esperienza è individuale in base a determinati fattori. Detto ciò, io giusto per cercare di essere non troppo prolissa e vorrei osservare come nel corso del tempo la letteratura ufficiale abbia parlato di creatrici in maniera differente e vorrei farlo con tre casi e poi arrivare a una conclusione finale che riguarda anche l'attualità. Ad esempio, per iniziare, citerei Donne famose nell'antichità del 1370 di Boccaccio. In questo testo lui parla delle donne che hanno contribuito alla storia e cita alcune artiste, soprattutto dell'antica Grecia. È un testo estremamente contraddittorio in quanto, sebbene quando lui è citi e allestimi perché dice che si sono azzardate a fare un lavoro che ha il pari dell'uomo e che l'hanno fatto bene, dall'altro lato dice che comunque non ci trippa pregatti, ovvero che comunque saranno sempre inferiori all'uomo in questo campo. E poi abbiamo, vabbè, Le Vita di Vasari, credo che sia un testo che tutti conoscono, del 1568. Testo fondamentale perché viene considerato il primo libro di storia dell'arte vero e proprio e c'è da dire che Vasari aveva tenuto in considerazione, giusto per fare degli esempi, due artiste. Una è Sofani Sbanguissola e l'altra è Quarzadei Rossi. Però, anche qui, Vasari si sa che dentro questo testo non si limita solo a parlare di storia dell'arte ma è molto evidente, come nel caso di queste due donne artiste, che si, che accentui molto a parlare del loro fisico e molto poco della loro arte. Ok? E poi, arriviamo all'ultimo esempio che è Storia e l'arte di Gombrich del 1950 in cui non vi è nessuna donna. Che cosa voglio dire con tutto ciò? che, sebbene spesso abbiamo l'impressione di progredire, di ottenere molti diritti e di essere riconosciute dentro questo mondo e dentro di questa società così ampia, non sempre poi, a livello effettivo, questi diritti si concretizzano. Alla fine, Storia e l'arte di Gombrich è un libro di testo diffuso in tutto il mondo e considerato uno dei padri della disciplina della storia dell'arte, come viene intesa oggi. Però non vi è nessuna donna. E allora, vorrei fare un salto avanti nella attualità e riflettere su quella che è l'immagine della donna oggi. Allora, abbiamo visto come nel passato, come nel caso di Boccaccio, le donne erano sempre comunque inferiori nel loro ruolo agli uomini, come nel caso di Vasari queste fossero commentate molto di più per il loro aspetto e come nel caso di Gombrich non siano state minimamente calcolate. Questo ci porta a dei fatti di attualità che mi toccano personalmente tanto. Vediamo. Per esempio, il caso di Carola Aracate, grandissima persona che ha svolto un lavoro eccellente per quanto riguarda il salvataggio di migranti. Ecco, lei per le testate italiane era semplicemente una donna che andava a processo senza reggiseno. E questa cosa mi sembra un po' vasariana. Quindi stiamo facendo un paragone di un libro del 1568, quindi quella di commentare l'aspetto e di non soffermarci su quelle che in realtà sono le cose. Sono infatti i meriti. Poi possiamo vedere, vabbè, tutta la situazione di Greta Thunberg, brillante ragazzina che riesce a portare avanti dei nuovi principi. Cavalca all'onda di attualità, scrive libri. Mamma mia, avrei voluto essere come lei alla sua età. Cioè, brillante. E nell'ultimo caso quello di Aisha Romano. Aisha Romano, una ragazza che si fa un mazzo tanto per cercare di fare volontariato, viene rapita, subisce 18 mesi con i suoi rapitori e il fatto che lei abbia deciso di cambiare religione, questo scatena l'opinione pubblica, tirano fuori il peggio. E allora, io vedo che in tutti questi nomi che ho citato durante tutto questo video, che è troppo lungo, e vi sia una costante. Il fatto che l'ostacolo viene dal momento in cui le donne decidono di share che cosa fare della propria vita e in cui libera l'arbitrio è ciò che spinge a svolgere determinate azioni e che avere un aspetto o un altro marchi una differenza. Come vediamo, nel corso della storia dell'arte abbiamo raggiunto determinati obiettivi, ma proprio per il fatto che la storia non è fatta di compartimenti stagni. Non vuol dire che questi siano garantiti, nonostante l'opinione pubblica sembri a seguire una certa linea. Di conseguenza, approfittiamo della conoscenza del nostro passato per capire un attimo come gestire il presente. Ho parlato pochissimo di storia dell'arte a livello affettivo, però osserviamo due mondi e traiamo le nostre conclusioni. Quindi questo era il mio primo video, io ero Vic e spero vi sia piaciuto. E niente, grazie. Paaa!